Gli italiani sarebbero disposti a sopportare una riduzione dei consumi e un aumento dei costi in cambio di uno stop all'import di gas e petrolio russo. E' quanto mette in evidenza la Repubblica che sul sito web ha riportato una ricerca di YouGov con il supporto di European Climate Foundation condotta a fine marzo su un campione di circa mille persone. Dal sondaggio è emerso che il 54% è favorevole a restrizioni alle importazioni da mosca delle materie prime energetiche anche a fronte di un rincaro delle utenze. Nel dettaglio l'80% si dice pronto ad abbassare di un grado la temperatura dei propri termosifoni quando sarà necessario per consumare meno gas. Allo stesso modo il 61% ha già ridotto il numero di ore di utilizzo del riscaldamento e un ulteriore 23% si dice disposto a farlo. Schiacciante poi come riporta Repubblica pure il consenso per una tassa sugli extra profitti per le campagne energetiche su cui si esprime favorevolmente il 72% dei rispondenti. Non sarei tanto favorevole però un'indipendenza nostra ci farebbe comodo però non siamo pronti a questo e quindi speriamo che questo problema si risolvi perché le famiglie sono veramente all'astrico. Il governo sta cercando di essere autosufficiente sicuramente rendersi indipendenti costi quello che costi è meglio se no dipenderemo sempre dagli altri. Anche riaprire i nostri pozzi in Adriatico che tutti contestano ma nel 92 l'Italia produceva 20 miliardi di metri cubi all'anno, quest'anno 3. Quindi i pozzi sono ancora lì, le piattaforme sono lì. Bisogna essere organizzati e cercare di essere il più autosufficiente possibile e poi il resto viene di conseguenza. Se adesso io dico no decidiamo che blocchiamo poi cerchiamo il gas da un'altra parte non credo che sia una grande soluzione. Fondamentalmente ci sono delle macchine che funzionano al di sopra di noi quindi posso essere favorevole o non favorevole ma poco conta. Noi non decidiamo nulla. Non so che mezzo possano utilizzare per fermare Putin ma non penso che sia questo del blocco del gas. Io penso che noi il paese italiano abbiamo tante risorse e tante cose ma se questo Stato non ci aiuta e non fa qualcosa per reggerci da soli senza aver bisogno per forza di altri Stati o di altre cose. Quindi sicuramente sì sono anche a favore di energia alternativa. È un grosso problema quindi se non si fa qualcosa anche per questo l'economia ciao. Non lo so se sono favorevole perché da una parte sì è vero che autoprodursi può essere favorevole da una parte ma dall'altra parte no perché ci sarebbero aumenti di costi esorbitanti suppongo. Quindi chiudere i rapporti con la Russia per un capriccio di Putin secondo me è un po' troppo. Un po' troppo. Io ho tre i rapporti con la Russia sinceramente sì. Secondo la morale sì è una cosa giusta. Per l'aumento delle bollette anche io sarei favorevole pur di punire la Russia. Del gas abbiamo bisogno se non si trovano fonti alternative è un po' difficile riuscire a dire no chiudiamo. Però poi cosa? Ritorniamo alla legna. Se non c'è un piano strategico ben pensato non si può adesso arrivare da punti in bianco chiudiamo col gas. Se non ci sono altri modi per poter andare avanti insomma tanto la casa calda la vogliamo tutti credo. Eticamente sicuramente può essere giusto bloccare il gas dalla Russia però dall'altra parte sarebbe un peso per le tasche degli italiani. Dovrebbe magari si dovrebbe lavorare al fine di aumentare magari gli stipendi e quindi il potere di acquisto degli italiani. Io sarei d'accordo per riprendere un po' anche ovviamente i nostri giacimenti e anche a livello energetico cercare di essere più autonomi possibile. Ormai penso che favorevole o contrario non sono più scelte, non è scelta obbligatoria. Bisogna comunque trovare delle vie alternative perché altrimenti se tu dipendi troppo da certi paesi questi ti chiudono i rubinetti quando vogliono. Quindi bisogna capire che forse una certa epoca è finita.